Ma che cazzo? Sono i nostri blindati. Nessuna spedizione mai sopravvissuta alla foresta. Ma com'è possibile? Se venivano dalla foresta andavano dalla parte sbagliata. No, guardate meglio. Non sono nostri. Nemici allora? Oh mio Dio. Quelle sono celle di carburante. Non ho mai visto una tecnologia così avanzata. Chi diavolo erano? Chiunque fossero, hanno perso. È stato un massacro. Non possiamo stare qui. Channa, ci serve un riparo. Raggiungiamo quelle rocce. È una mia impressione oppure sembra che le tempeste ci stiano seguendo? Sì, c'è qualcosa di strano. Stai indietro mentre sgombro la via. Non capisco. Come hanno fatto i ribelli a prendere delle celle a fusione funzionanti? Quelli non erano ribelli. Chiunque fossero, probabilmente la loro elettronica funzionava qui nel deserto tanto tempo fa. Quindi, chi diavolo erano? Magari sono arrivati dalla Flores, come noi. Forse coloni destinati a un'altra parte del pianeta. Vorrebbe dire che c'era una missione segreta totalmente slegata dalla nostra. Non so, mi sembra assurdo. Esiste una spiegazione alla nostra? Beh, effettivamente no. Non so, mi sembra assurdo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tiago, August ha detto qualcosa di utile. August è stato più silenzioso del solito. L'avevo già visto e impaurito, ma c'era sempre curiosità nei suoi occhi. Ora vedo solo terrore. Non so perché. Ho trovato un riparo. Channa, portaci tutti dentro. Non credevo saremmo sfuggiti alla tempesta. Non è una tempesta. Guarda, c'è qualcuno là. Ma quello non è il bastardo che ha ucciso Jakub. Ma tu sai proprio far incazzare la gente. Quello stronzo non si vuole arrendere. Neanche io. La prossima volta lo ammazzo. Guarda, ho trovato qualcosa. Una specie di avamposto. Sembra umano. Vedi, l'antenna laggiù. Potrò tracciare il segnale. Zaidi, quant'è vitale quell'antenna? Beh, in realtà ho avuto qualche problema ad agganciare il segnale da quando siamo entrati nel deserto. Sono andato un po' a intuito. Ma col giusto equipaggiamento... Ho capito, ci serve. Ti contatto per avere il via. Ho capito, ci serve. Ho capito, ci serve. Vi va capito. Si. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sarebbe stato fantastico. Grazie a tutti. 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 Ma era attivo al mio atterraggio. Come può essere possibile? Non lo è. Non è possibile. Soltanto una nave ha lasciato la terra. La nostra. E allora chi era? Grazie a tutti. Non importa. Queste coordinate, troviamole e colleghiamoci e contattiamola a Flores. Abbiamo le coordinate, siamo pronti al tuo segnale. Ok?